Ciao a tutti e ben ritornati in questo nuovo video come vedete oggi è un video un po' diverso perchè siamo in macchina e dopo 3 mesi di quarantena o anche di più sto per fare una vacanza si sto andando in vacanza in Abruzzo in un camping a Giulianova che si chiama Camping Golden Age e praticamente sarà divertentissimo perchè c'è una mia amichetta Liliana che mi ha invitato e sarà divertente e poi dopo la conoscerete e vi terrò a giornate un po' più tardi ciao ciao ragazzi questo è il primo giorno di camping qui in Abruzzo ed è davvero bellissimo mi piace un sacco e oggi è una bellissima giornata perchè c'è un sole che spacca e infatti oggi andrò al mare dopo la quarantena la prima volta al mare e si va di là guardate ecco qui ragazzi per andare al mare si va tutto di là infatti oggi ci andrò qui abbiamo la nostra casettina eccola poi c'è il tavolo fuori è bellissimo e poi qua dietro c'è anche il giardinetto e secondo me sarà bellissimo si sta benissimo e poi vi terrò a giornate più tardi ciao poi al mare incontrerò anche la bimba che mi ha voluto ospitare qui che si chiama Liviana ed è dolcissima e adesso andiamo al mare insieme così giochiamo un po' a dopo guardate che meraviglia è bellissimo il mare oggi e non vedo l'ora di fare il bagno ed è davvero fantastico mi piace un sacco ragazzi ho vinto il gioco che era sacco pieno sacco mezzo sacco vuoto però con delle varianti tipo c'era sacco vuotissimo che dovevamo estraiarci oppure sacco pienissimo dovevamo alzare le mani oppure sacco che gira dovevano girare e ho vinto io si quindi ho diritto un sure soffhi dove stai andando vado a prendere siucca primo giorno primo premio eccolo qua forse anche l'ultimo però vabbè mi godo questo rieccomi tornata ragazzi come vedete adesso sono in macchina perché ci siamo cambiati tutti docciati profumosi e andiamo a cenare andiamo a cenare fuori e mangiamo qualcosa di tipico abruzzese così anche perché in abruzzo io non ci sono mai stata questa quella prima volta quindi vorrei assaggiare qualcosina di tipico e adesso siamo sul lungomare vi faccio vedere questo qui è il lungomare di cui vi parlavo ed è bellissimo ci abbiamo fatto anche una passeggiatona ed è davvero lungo ed è davvero bello quindi ci vediamo tra poco ciao eccoci qua ragazzi siamo scesi adesso facciamo una passeggiata poi andiamo anche a mangiare soprattutto mangiare e poi torneremo in albergo ciao ciao ragazzi adesso stiamo andando a cenare con diciamo un aperitivo si un aperitivo e andiamo verso di là vi faccio vedere e poi vi terrà giornate un po più tardi ciao ciao complimenti eh per oggi poi non ci siamo potete 200k sono duecentomila complimenti stasera si pianta e quando il sole chiede alla luna dove andrò andrò dovunque andrai altrove no quando balli il tuo parco si muono vecchio mio ciao ragazzi questo qui era l'ultimo giorno di vacanza diciamo al camping golden beach ed è stato bellissimo questo weekend e oggi sono andata al mare di mattina però non ho fatto il bagno perché l'acqua era un po' fredda quindi non l'ho fatto però ho fatto il bagno e il pomeriggio di in piscina e l'ho fatto davvero un bel bagno e questo pomeriggio una mia amica mi ha fatto anche le unghie che alloggiava sempre via il camping allora mi ha fatto le unghie ve le faccio vedere eccole sono bellissime mi piace non so anche il colore bellissime scusate se mi muovo ma stiamo facendo una passeggiata infatti stiamo facendo la passeggiata a Tortoreto che è vicino a Giulia Nova infatti ieri abbiamo fatto la passeggiata a Giulia Nova oggi abbiamo voluto provare a Tortoreto farò un pochettino però andiamo a mangiare perché ho tanta 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 fame e questo posto è davvero bellissimo mi piace un sacco ve lo faccio vedere davvero bello dai allora ci vediamo più tardi ciao buongiorno a tutti amici mi sono appena svegliata però purtroppo oggi dobbiamo partire è finito questo weekend al camping golden beach e mi dispiace perché mi sono divertita tantissimo qui abbiamo fatto un sacco di piscina tantissimo mare ho incontrato anche molti nuovi amici e mi dispiace lasciarli però voglio ringraziare Nina in Wonderland per averci invitato qui e il camping golden beach per averci ospitato ed è stato davvero bellissimo ora però devo andare ciao ciao